Questo è Great Big Story. Licio Gelli era il perno perché attraverso la P2 lui controllava i servizi. Altro che paura, io avevo paura di un cazzo. Non c'è stata nessuna trattativa politica. Dietro le stragi c'erano i servizi segreti deviati. La principale intenzione era quella di non trovare i veri colpevoli. L'indicatore dei luoghi dove erano avvenute le stragi fosse stato a Marcello Dell'Utri. Chi è che insegna a Salvatore Riina il linguaggio che abbina la cieca violenza mafiosa alla raffinata guerra psicologica di disinformazione che c'è dietro l'operazione della falange armata? È successo anche questo, scoprire che un Presidente della Repubblica aveva mentito. Su indicazione dei miei avvocati intendo avvalermi della facoltà di non rispondere. Ci eravamo lasciati così a gennaio scorso con le dichiarazioni di un ex Presidente del Consiglio che si avvale della facoltà di non rispondere. È un suo diritto. Oggi non gode di un momento di gran forma Silvio Berlusconi e gli auguriamo di tornare presto in pista. Comunque Berlusconi e Dell'Utri erano stati già indagati a lungo per le bombe del 1993-1994. Era il 1997, procura di Firenze, PM Gabriele Chelazzi. La loro posizione fu archiviata, tuttavia emersero nel corso delle indagini, scrivono i giudici in una sentenza abbastanza dura, emersero contatti con dei soggetti riferibili alle stragi. Contatti che erano compatibili a quello che era il progetto stragista di Cosa Nostra, cioè ad ottenere delle leggi favorevoli all'organizzazione mafiosa. Oggi Berlusconi e Dell'Utri sono nuovamente indagati per le bombe di Firenze, Roma e Milano e queste indagini nascono dalle intercettazioni captate dalla procura di Palermo all'interno del carcere ai danni del boss dei fratelli Graviano, che sono boss di Brancaccio, che sono secondo un loro uomo di fiducia spatuzza, dopo un depistaggio sono stati indicati come gli autori materiali della strage di Via D'Amelio. Oggi il nostro racconto parte da un magazzino particolare in provincia, nella periferia di Palermo, dove si riunivano gli uomini di Cosa Nostra, il GOTA con uomini dei servizi segreti, dove venivano scannati i traditori e dove vennero pianificati gli omicidi eccellenti, quelli del generale dalla Chiesa, del magistrato Rocco Chinnice, dove recentemente era arrivato, secondo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Vito Galatolo, l'esplosivo per far saltare in aria il giudice che ha indagato sulle stragi, sulla presunta trattativa tra Stato e mafia, Nino Di Matteo. Questo perché, dice Vito Galatolo, mi è stato chiesto di farlo perché Di Matteo si era spinto troppo oltre il nostro Paolo Mondani. Fra i cantieri navali e il porticciolo dell'Acqua Santa c'è un luogo in cui sono racchiusi molti dei misteri di Palermo. Vicolo Pipitone si chiama. Già negli anni settanta era il regno del clan Galatolo e dei Fontana. A Vicolo Pipitone i servizi segreti incontravano i mafiosi. Le risultano contatti di persone della famiglia o del suo mandamento con soggetti appartenenti a agenzie di sicurezza, servizi segreti, eccetera? C'era il marascello Salzano che faceva il marascello della caserma dei Carabinieri, che era sul libro Paganostra. Poi c'era uno che si è venuto a sapere che era dei servizi segreti, che era questo Giovannaiello, faccia da mostri, che era uno scotto, era un amico suo perché aveva i contatti con i servizi segreti. La Barbera perché era uno quel corrotto, e il dottor Contrada. Queste erano le persone che venivano a casa. Che cosa offrivano e che cosa chiedevano, se lei lo sa? Ma erano dei piaceri che si scambiavano, sia cosa nostra che pezzi dello Stato, dei servizi segreti deviati. Giovanni Aiello, alias faccia da mostro, ex poliziotto e collaboratore dei servizi segreti, morto nel 2017 senza una condanna, è il killer di Stato che avrebbe contribuito alle stragi di mafia, di cui hanno parlato alcuni pentiti, che lo descrivono in contatto con la CIA. Consolato Villani è uno di questi. Quest'uomo detturpato in viso, lei poi lo ha riconosciuto. Ed era Giovanna Aiello, faccia da mostro, sì. E la donna chi era? La donna addirittura era più pericolosa dell'uomo, era una mercenaria. Queste entità hanno appoggiato sempre le organizzazioni criminali. Aiello è spesso accompagnato da una donna bionda, che anni fa gli inquirenti sospettano sia Virginia Gargano, che compare in un elenco di Gladio ed è imparentata tramite l'ex marito con l'allora direttore del SISDE, poi capo della polizia Vincenzo Parisi. Faccia da mostro e la sua accompagnatrice sono stati sospettati di aver partecipato alle stragi del 92 e del 93. Faccia da mostro muore nel 2017 senza una condanna, mentre la posizione della Gargano è stata archiviata dalla procura di Catania. Al fondo Pipitone si riuniva l'Igota di Cosa Nostra. Secondo le ultime testimonianze, si incontrava anche con il capo della squadra mobile di Palermo, Arnaldo Labarbera. Rutilius in codice era, perché è emerso successivamente, che era un membro dei servizi segreti. Ecco, e secondo i magistrati di Caltanissetta avrebbe avuto anche un ruolo nella sparizione dell'agenda rossa di Borsellino e anche nel fallito attentato alla Dauria. Quello finalizzato, spaventare Giovanni Falcone. In quel fondo si sarebbe anche recato qualche volta Bruno Contrada, ex capo del SISDE a Palermo, e anche faccia da mostro. Giovanni Aiello, il poliziotto, anche lui, agente sotto copertura, con contatti con la CIA, presente nei luoghi delle stragi e degli omicidi, eccellenti, accompagnato con una donna, Virginia Gargano, che secondo i collaboratori di giustizia sarebbe stata addirittura più cattiva di lui. Ecco, non è la sola donna reputata appartenente ai servizi ad essere identificata, segnalata sui luoghi delle stragi. Sono ben quattro le donne che erano presenti nelle notti delle stragi a Firenze e a Milano. Sono questi gli identikit. Uno addirittura era stato anticipato nel 1993 dal quotidiano. L'unità, il mistero è che ancora oggi non sappiamo chi abbia innescato quelle bombe. Il sospetto tremendo è che Cosa Nostra abbia agito in collaborazione con alcuni agenti dei servizi di sicurezza. Un'informazione talmente inconfessabile di dominio esclusivo del GOTA di Cosa Nostra, che sarebbe addirittura inconfessabile anche agli stessi componenti dell'organizzazione mafiosa. Perché sarebbe stata messa in crisi addirittura la tenuta di Cosa Nostra. Ecco, il racconto di questa sera è la narrazione che avviene attraverso i verbali nascosti, sui quali probabilmente c'era scritta già una parte della verità. Uno di questi riguarda Salvatore Baiardo, l'uomo che ha gestito la latitanza dei Graviano, accusati oggi di essere gli esecutori della strage di Via D'Amelio. Il nostro Paolo Mondani l'aveva incontrato tempo fa e Baiardo gli aveva raccontato di presunti incontri con Silvio Berlusconi, tra Graviano e Berlusconi, soprattutto gli aveva confidato di sapere dov'è l'agenda rossa di Borsellino, quella sottratta al giudice nell'auto, ancora in fiamme, che potrebbe anche contenere la verità sui mandanti esterni a Cosa Nostra. Capaci, 23 maggio 1992 Via D'Amelio, 19 luglio 1992 A quasi 30 anni di distanza, i mandanti delle stragi di mafia sono ancora senza nome. Il dubbio è che la verità sia già stata scritta e forse basterebbe ricollegare vecchie prove, antiche testimonianze, il lavoro di magistrati e investigatori lontani fra loro per scoprirla, i verbali dimenticati negli archivi. C'è un altro collaboratore di giustizia che si chiama Gioacchino Labarbera, il quale ha dichiarato che in alcuni momenti della preparazione della strage di Capaci lui vide un uomo che era presente nella fase di preparazione dell'esplosivo e un altro uomo che era presente nel momento in cui arrivò la telefonata che Palcone era partito all'aeroporto. Questi due soggetti, secondo lui, non erano appartenti a Cosa Nostra. Totò Cancemi fu il primo pentito della cupola di Cosa Nostra, aveva fatto parte del commando stragista di Capaci, poi nel 1993 si consegnò ai carabinieri. Totò Riina, in carcere, al suo compagno di cella Lorusso nel 2013, racconta di un misterioso incontro con Salvatore Cancemi. Lui dice questa frase a Lorusso, dice Dopo Capaci venne da me Cancemi e mi disse cosa ci dobbiamo inventare ora dopo Falcone? E io gli risposi ma che ci possiamo inventare? Se quelli sanno, se quelli sanno la verità, è finita la cosa. Come la interpretare? Dopo l'esecuzione di Capaci, qualcosa in quell'esecuzione si è apparso in qualche misura anomalo, Cancemi che condivide con Riina qualcosa sulla verità di quella strage si preoccupa, dice ci dobbiamo inventare qualcosa e Riina dice sì, ma cosa inventarci? Se quelli, e cioè i quadri e i soldati di Cosa Nostra, sanno la verità, capiscono la verità, è finita la cosa, è finita Cosa Nostra. Via D'Amelio, la bomba è scoppiata da poco. Il poliziotto Francesco Paolo Maggi, arrivato tra i primi sul luogo della strage, riconosce alcuni uomini dei servizi segreti in giacca e cravatta che armeggiano intorno all'autoblindata di Borsellino. Sono gente di Roma, dirà Maggi, non sono mai stati identificati. Nella fase esecutiva della strage di Via D'Amelio abbiamo degli elementi che ci consentono di ritenere che alla strage abbiano partecipato anche soggetti esterni. Uno di questi elementi è una intercettazione tra il collaboratore di Matteo e la moglie che avviene pochi giorni dopo che era stato rapito il loro figlio Giuseppe. La moglie di Matteo, con toni disperati, si ingliossando gli dice, hai capito perché non ha rapito Giuseppe. Abbiamo un altro figlio. Non parlare degli infiltrati della polizia nella strage. Tutti hanno visto le immagini di Via D'Amelio a pochi minuti da quella strage. Chi ha avuto la necessità di vederle anche per motivi giudiziari sa che in quel momento vi erano brandelli umani ovunque. Che qualcuno abbia avuto la freddezza in quell'inferno di dirigersi verso la macchina, verso la borsa di Paolo Borsellino, di svuotarla dell'agenda rossa e di farla scomparire è una circostanza assolutamente straordinaria e declatante. nessuno potrà mai sostenere logicamente che alla scomparsa dell'agenda rossa potesse avere interesse cosa nostra. Salvatore Baiardo è stato per anni l'uomo che ha coperto la latitanza di Giuseppe Graviano, il boss di Brancaccio coinvolto nella strage di Via D'Amelio che oggi parla dei suoi presunti rapporti d'affari con Silvio Berlusconi. Lei sa dove l'agenda rossa? Sì o no? Mi dica solo questo e poi... C'è più di una copia in giro. Graviano l'ha vista? Graviano l'ha avuta. Ha avuto l'agenda di Borsellino? Sì. L'agenda rossa. Ecco cosa dice Riina, intercettato in carcere, dell'agenda rossa di Borsellino. Ma lei parla sempre degli incontri di Graviano con Dell'Utri, ma non dice mai, sì, se i Graviano incontrano Berlusconi. Perché non erano questi gli accordi con Graviano. Con Graviano. Cioè lei all'esterno poteva raccontare delle cose... Senza tirare in ballo lui. Perché adesso il processo mafia, andrà anche tra straggista, Graviano dice di aver incontrato tre volte Berlusconi. Adesso lo sta tirando in ballo. Adesso lei cosa dice? Ma sì, come l'ho detto prima, anche più di tre. Poi Baiardo, il 17 agosto del 1993, porta in Sardegna a Graviano una valigia destinata a Berlusconi. Mi trovi un modo per dirmi quanti soldi lei ha portato a Berlusconi in nome per conto di Graviano? Glielo dico via mare. Una barra. Lei ha detto alla DIA che Berlusconi era interessato ai finanziamenti della mafia per il nuovo partito, costituendo un nuovo partito. È stato totalmente finanziato dalla mafia. E non solo dalla mafia. Le rivelazioni di Baiardo sui rapporti fra i Graviano, Dell'Utri e Berlusconi finirono in queste due informative tra il 1996 e il 1997. Le scrisse Francesco Messina, allora funzionario della DIA, ma se ne accorse solo un magistrato. Di queste due informative lei ha parlato specificamente con il dottor Chelazzi. Credo che il dottor Chelazzi abbia anche intrattenuto un colloquio con il Baiardo. Mi interessa di sapere se con Chelazzi parlò delle dichiarazioni che Baiardo aveva fatto in merito ai rapporti Graviano-Dell'Utri. Certo. E cosa disse? Beh, che andava approfondito. In quel momento era una cosa che aveva una rilevanza notevole, per cui formalizzammo con una vera e propria nota all'autorità giudiziaria. Il pubblico ministero Gabriele Chelazzi credeva alla pista Baiardo, ma poco dopo venne trasferito alla Procura Nazionale Antimafia e quelle due informative furono dimenticate. Oggi però la Procura di Firenze le ha riprese. I pubblici ministeri cercano i mandanti occulti delle bombe mafiose del 1993, nell'inchiesta che dopo molte archiviazioni vede di nuovi indagati Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. I PM hanno interrogato Salvatore Baiardo e Giuseppe Graviano sugli affari in comune con Berlusconi, e i due parlano come mai hanno fatto prima. Mentre Totò Riina il 22 agosto 2013 confidava sottovoce al suo compagno di detenzione Alberto Lorusso dei soldi pagati per anni da Berlusconi tramite Dell'Utri a Cosa Nostra. Il senatore serio e amico sarebbe Marcello Dell'Utri, che secondo un altro collaboratore, Pietro Rigio, sarebbe anche quella mente raffinatissima che aveva indicato gli obiettivi del patrimonio artistico da colpire con le bombe. Ora Baiardo era stato giudicato credibile nei suoi primi verbali dal PM di allora Gabriele Chelazzi, che è morto stroncato da un infarto improvviso. Tuttavia quei verbali sono rimasti lettera morta. Oggi Baiardo racconta di sapere dov'è l'agenda rossa di Borsellino, che ce ne sarebbero anche più copie. Una sarebbe finita nelle mani dei Graviano. E sarebbe stata portata, lo diciamo oggi, perché a gennaio quelle dichiarazioni scaturirono da quelle dichiarazioni delle polemiche, fu portata l'agenda rossa da uomini esterni a Cosa Nostra. Baiardo ha anche fatto i nomi e ha anche raccontato le modalità con cui sarebbe avvenuta la consegna. Su tutto questo stanno indagando i magistrati Turco e Tescaroli, ai quali Baiardo ha confermato anche le versioni di Graviano, cioè dei presunti incontri con Berlusconi, di valigie di soldi che venivano dati per finanziare lui e anche il progetto politico. I legali di Berlusconi rispondono che non ci sono mai stati incontri tra Berlusconi e Graviano. 25 anni di indagini lo confermerebbero. Non solo non c'è stato mai alcun contatto tra Berlusconi e la mafia, tantomeno diretto o indiretto, con i Graviano. E che questa inchiesta è destinata ad essere archiviata. Ecco, il nostro Paolo Mondani invece, rovistando tra i cassetti, ha trovato altri verbali dimenticati dove emergono contatti tra uomini di Cosa Nossa, Servizi Segreti Deviati e P2. Questa volta il filo conduce fino negli Stati Uniti. Altro verbale dimenticato. 2 gennaio 1998. Il PM Gabriele Chelazzi sta indagando sui presunti mandanti delle stragi, dell'Utri e Berlusconi, e interroga Angelo Siino, il ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra, collaboratore affidabile che riceve una confidenza di Nilo Joè, l'esecutore della strage di Capaci. I due erano detenuti del carcere di Rebibbia. Joè gli rivela che il tramite occulto tra Forza Italia e Cosa Nostra era Massimo Maria Berruti, ex capitano della Guardia di Finanza, ex consulente della Fininvest, già deputato di Forza Italia. Nel 2011 Berruti venne condannato a due anni e dieci mesi di reclusione per riciclaggio, nel processo d'appello sui fondi neri Mediaset, ma il reato risultò prescritto, mentre per le accuse di mafia venne archiviato. Tempo dopo, nella notte tra il 28 e il 29 luglio del 1993, Joè viene ritrovato impiccato con i lacci delle scarpe. Ufficialmente è suicidio. Antonino Joè era un anello di collegamento tra Cosa Nostra e Servizi, viene rinchiuso nel carcere di Repibbia, secondo la dichiarazione di alcuni collaboratori, Antonino Joè stava per iniziare a collaborare. E proprio in quella fase viene trovato impiccato nella sua cella Repibbia con modalità strana, perché l'agente di custodia, che secondo il regolamento doveva sostare nel braccio dove era Antonino Joè, riceve l'ordine di spostarsi in un'altra ala, e proprio in quel momento Antonino Joè si impicca, viene trovato impiccato con modalità strane, perché ha delle chimosi sotto l'occhio, quattro costole fratturate, e poi la linea della corda, dei lacci delle scarpe con cui si era strangolato, non è nella direzione della forza di grevità. Nel 1967 Joè ha 19 anni e già i carabinieri di Altofonte lo considerano idoneo a disimpegnare particolari incarichi di natura riservata. Nel 1968 è paracadutista delle forze speciali e suo cugino, il boss pentito Francesco Di Carlo, a iniziarlo ai servizi segreti. Insomma, Joè era una specie di agente doppio tra la criminalità e lo stato deviato. Per questo, quando rinchiuso a Re Bibbia decide di collaborare... I servizi ne fanno un'altra, fanno ammazzare dentro il carcere a Nino Joè, suicidare, non lo so, autosuscitazione. 23 maggio 1992, Antonino Joè era qui, sulla montagna di fronte all'autostrada, insieme a Giovanni Brusca, che aveva in mano il telecomando della strage. Due ore e 41 prima della bomba, Joè fa tre telefonate negli Stati Uniti, in particolare in Minnesota. Lei ha fatto le indagini su quel telefonino e su quelle telefonate? Sì, guardi che le telefonate con gli Stati Uniti sono molto più di tre, sono fatte anche con altre utenze, e sono fatte anche da Roma, e sono fatte dai cellulari che da Roma hanno chiamato Palermo, quando il dottor Falcone è partito. Quindi il panorama delle chiamate negli Stati Uniti sono molteplici. Da parte degli uomini della strage? Sì, che rientravano in un certo contesto di utenze che avevano operato, che si erano contattate fra di loro in quei frangenti orari. E questi accertamenti, per quanto mi risulta, sono rimasti totalmente in evasi. L'ultima di Joè è una specie di trattativa che dopo la strage di Capaci imbastisce con Paolo Bellini, ladro d'arte, militante di avanguardia nazionale e killer per una cosca dell'Andrangheta. Oggi l'ultimo indagato come esecutore della strage di Bologna del 1980. Bellini viene infiltrato in Cosa Nostra dal maresciallo dei Carabinieri Roberto Tempesta per recuperare opere d'arte rubate, con l'ok del colonnello Mario Mori, che guidava i Rossi. Dopo Borsellino io decido di infiltrarmi in Cosa Nostra con il grimaldello delle opere d'arte, recupero di opere d'arte. Siccome l'ok del colonnello Mori mi era stato dato di infiltrarmi e siccome il maresciallo Tempesta mi ha dato l'ok di infiltrarmi, che era stato delegato da Mori, che cosa dovevo fare io? Dire di no? Poi successivamente Antonino Gioè mi ha consegnato a me un biglietto con scritto cinque nomi. C'era Bernardo Brusca, c'era Pippo Calò, c'era Liggio, Leggio, Liggio. Bellini comunica a Tempesta che i corleonesi vogliono benefici carcerari per i cinque boss. Possibile che a questo punto i carabinieri non si mettano in allarme? Riesco a incontrare il generale Mori e gli detti il biglietto. Lui disse subito stiamo parlando del Gota e quindi secondo me c'è qualcosa di strano. Del Gota di Cosa Nostra. Il generale Mori rifiutò di trattare su quei nomi e ha sempre negato di aver persino autorizzato l'infiltrazione di Bellini. Ma sapeva che Bellini frequentava Gioè e allora perché il Ross non l'ha mai nemmeno seguito? Lei notò qualcosa di strano in Gioè in quell'occasione? Gioè era fuori di testa, era partito proprio, farfugliava di tutto e di più, che erano stati consumati. Cosa vuol dire che erano stati consumati? A un certo punto Antonino mi dice che loro avevano in piedi una trattativa con i piani alti del governo e che anche c'entrava gli Stati Uniti perché c'era un parente di Totorina in America. Chissà se si sente consumato anche Matteo Messina Denaro, nato e cresciuto a pochi passi da qui. Selinunte fu la colonia greca più occidentale della Sicilia, 2700 anni fa. Sotto questa enorme area archeologica si nasconde un susseguirsi di templi e antiche ville. Ci piace pensare che Matteo, il latitante, quando si vuole accuttufare, che in siciliano significa nascondersi al mondo, si diverta a venire qui a Selinunte, a tambasiare fra le rovine, altro verbo siciliano che significa passeggiare senza un preciso scopo. C'è un momento in cui Riina, che è sempre malato del germe dell'onnipotenza, comincia a parlare e a riferire alcuni personaggi di primissimo piano, da cui un tale Saron Aimo, che è definito in Cosa Nostra come l'alter ego di Riina in America, di Cosa Nostra americana, gli presenta Matteo Messina De Naro e gli dice guarda ho piacere che ti, perché per me è come un figlio e se per caso mi succede qualche cosa tu devi parlare con lui. Sta a significare che Matteo era a conoscenza di tutti i segreti di Tottor Riina. Lei ha detto che Matteo Messina De Naro è artefice e partecipe diretto di Sicilia Libera. Tutta l'idea della mafia di buttarsi sulle leghe ad un certo punto viene meno e il suo socio, il suo amico più stretto Giuseppe Graviano aveva già intavolato con Forza Italia una trattativa. Su questo punto cosa viene fuori anche dalle cose che dicono i collaboratori? Emerge un particolare molto interessante perché l'idea di fare la Sicilia, della Sicilia ha ancora negli anni 90 un tentativo di farne un altro Stato americano che viene proposto sempre a questo famoso Saron Haibon che in quel momento è latitante. C'è l'uomo di Cosa Nostra in America collegato ai servizi americani. Riina aveva presentato al suo alter ego americano con i contatti, con i servizi, quello che considerava suo figlio Matteo Messina De Naro e quello del filo con gli Stati Uniti è un filo che non è stato indagato sufficientemente a partire dalle telefonate che sono partite verso gli Stati Uniti da quei telefoni degli uomini presenti sul luogo della strage di Capaci, quegli uomini che erano in attesa del passaggio della macchina del giudice, della sua scorta. Tra questi c'era Antonino Gioè, un uomo che è entrato in contatto con Paolo Bellini. Paolo Bellini è killer di avanguardia nazionale dell'andrangheta, uomo che si operava nel furto delle opere d'arte. Proprio Paolo Bellini che è stato coinvolto recentemente nella strage di Bologna dove dopo 40 anni sono emersi le responsabilità di Liceo Gelli e della P2 ha detto che fu proprio il colonnello Mori a chiedere di infiltrarsi dentro Cosa Nostra per cercare di recuperare opere d'arte. Ecco, Bellini scese in Sicilia prima delle bombe ma le opere d'arte non le ha recuperate. Quella della sua infiltrazione è una delle cose più misteriose del periodo stragista. Fu un infiltrato vero Bellini o come disse Brusca ha inoculato magistralmente nella mente di Cosa Nostra l'idea che colpire il patrimonio artistico del paese avrebbe pagato di più che far saltare in aria vite umane. Ecco, quel Paolo Bellini che è stato in contatto con un uomo di peso di Cosa Nostra, Antonino Gioè ex paracatutista dei reparti speciali, l'uomo che era presente a Capaci in contatto diretto con Rina, quel Gioè che poco prima di collaborare muore suicida in carcere. Secondo il cugino, altro pentito, boss di rilievo, Francesco Di Carlo, sarebbe stato invece ucciso dai servizi di sicurezza. Angelo Siino, l'uomo degli appalti di Cosa Nostra, aveva invece raccontato ai magistrati, in un altro dei verbali rimasti nascosti, chiusi, in un cassetto che Gioè aveva confidato che l'uomo di uno degli uomini di contatto tra Cosa Nostra e Berlusconi era Massimo Maria Berruti. Chi è Berruti? Berruti nel 79 era stato l'ufficiale che aveva indagato sulle 23 holding di Berlusconi registrate presso la banca Rasini, la banca che Michele Sindona aveva identificato come la banca di Cosa Nostra. clienti particolari erano il cassiere di Cosa Nostra, Pippo Calò, Riina, Bernardo Provenzano. Ecco, Berruti dopo un'indagine che si era chiusa con un nulla di fatto anche sulle società di Berlusconi, Lady Il Nord, all'epoca sospettata di avere evaso 5 miliardi di lire, ovviamente lascia la Guardia di Finanza e viene assunto a libro paga di Silvio Berlusconi come consulente e anche come avvocato, poi diventerà anche parlamentare di Forza Italia. È stato però poi condannato e prescritto con l'accusa di riciclaggio e condannato per aver tentato di depistare, di aver tentato di silenziare quegli agenti della Guardia di Finanza che avevano indagato sulla Fininvest. Ecco, però, su quello che aveva raccolto Sino in merito alle confidenze di Gioè prima di morire, cioè che Berruti fosse stato un uomo di contatto tra Cosa Nostra e Berlusconi, Ecco, su quello non si è mai indagato. E ora altri verbali che invece la dicono tutta sulla latitanza e le coperture di Matteo Messina Denaro, il capo dei capi. Il finanziere Calogero Pulici è stato assolto in ben sette processi, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio e accesso abusivo a sistema informatico con l'allora procuratore di Trapani Marcello Viola e l'ex aggiunto di Palermo Teresa Principato. Anche loro assolti. Per anni, con la Principato, Pulici ha seguito le indagini per la cattura di Matteo Messina Denaro. Nel 2015 scompare dall'ufficio di Teresa Principato, l'allora procuratore aggiunto a Palermo, un personal computer e alcune pendrive. Che sono sue? Sono mie, personal. Questo computer e queste pendrive contenevano cose delicatissime? Contenevano tutte le indagini e tutti gli scontri sulle indagini su Matteo Messina Denaro. Di quanti anni? Dal 2010 in poi. Il computer era tenuto in ufficio perché io ritenevo che fosse il posto più sicuro. L'ufficio della dottoressa Principato era aperto solitamente? No, l'ufficio della dottoressa Principato avevamo accesso soltanto io e la dottoressa. Le risulta che ci sia stata un'inchiesta su questo? C'è stato comunicato che era stato archiviato in via amministrativa. Archiviato in via amministrativa? Me lo spieghi lei. Che vuol dire? Che l'archiviazione non passa dal GIP. Quindi sparisce il computer con dentro tutta la storia e tutta l'indagine su Matteo Messina Denaro, più le pendrive e non c'è un giudice che valuta se si debba andare avanti o almeno farsi qualche domandina in più? Non me lo so spiegare, però dico... Di chi è la mano che ha preso il computer e le pendrive? Non so se è una manina. A cosa ha pensato? Il famoso servizio segreto deviato, diciamo così? No, io non penso. Pulici non pensa, ma in quell'ufficio non sono certo entrati i picciotti di mafia. Mentre Matteo Messina Denaro, secondo Marcello Fondacaro, colletto bianco dell'Andrangheta e ora collaboratore di giustizia, farebbe parte della loggia La Sicilia, una derivazione della P2 che lo protegge. Alla loggia partirebbe anche l'esponente di Forza Italia trapanese ed ex senatore Antonio Dalì, la cui famiglia dava lavoro al boss Francesco Messina Denaro, padre di Matteo. Dalì, già sottosegretario agli interni nel secondo governo Berlusconi, smentisce. Oggi è sotto processo a Palermo per concorso esterno in un'associazione mafiosa. Nel frattempo, a largo di Palermo, un testimone ci racconta chi nello Stato ha coperto il superlatitante. Mi parli di questo suo amico? Da giovane è stato un carabiniere, un ufficiale. Poi tutta la vita ha lavorato in banca sotto copertura. Nel senso che lavorava in banca qui a Palermo ma era dei servizi segreti. Quali dei due servizi? Quello civile. E che faceva per i servizi? Parlava con Matteo Messina Denaro. Parlava con Matteo Messina Denaro? Si incontravano. Qualche volta si sono incontrati nei momenti topici, diciamo nei momenti in cui accadevano le cose. E che altre operazioni ha fatto a Palermo per i servizi? È stato per anni infiltrato come uomo di banca in un mandamento molto importante. Dava consulenze finanziarie ai boss. Quale mandamento? Lasciamo stare. Brancaccio? No, no, San Lorenzo. E posso immaginare che ad un certo punto da infiltrato il suo amico si è diventato qualcosa di più? Diventa una specie di ufficiale di collegamento. Tra mafia e servizi. Senta, ma lei ha mai visto questo libro che si chiama Lettera a Svetonio? Sì. È un libro di lettere che Matteo Messina Denaro si scambia con l'ex sindaco di Castelvetrano, Antonio Vaccarino. Antonio Vaccarino si firma a Svetonio e Matteo Messina Denaro si firma a Alessio. Ad un certo punto, recentemente, si viene a scoprire che in realtà Vaccarino scriveva queste lettere in nome per conto dei servizi segreti e il generale Mori, che era il comandante e il direttore del SISD, ammette che effettivamente Vaccarino era un loro uomo. Di quelle lettere si è occupato il mio amico, me lo disse lui. Ma lui scriveva lettere di Matteo Messina Denaro o di Vaccarino? Lui scriveva quelle di Matteo Messina Denaro. E Totorina, dal carcere, aveva capito bene come si era trasformato Matteo Messina Denaro. Un anno di un ragazzo che ha il suo figlio, adesso, non lo faccio qualcosa perché l'ha fatto la buona, l'ha fatto la buona, l'ha fatto la buona, l'ha fatto la buona, l'ha fatto la buona. L'ora non lo ho conosciata scuola perché l'avevo dicendo io, quindi a loro, quindi... Se non ce l'hai, non lo voleva bene, invece là. Chi se non si è dice, io penso se ne andasse. Chissà di quali informazioni era in possesso Rina. Il nostro Paolo invece ha incontrato un testimone dell'alta borghesia palermitana che è un amico di Alessio, cioè l'amanuense che ha scritto per conto di Matteo Messina Denaro le lettere a Svetonio, nome in codice di copertura del sindaco di Castelvetrano Antonio Vaccarino. Un sindaco dei misteri è morto proprio in questi giorni. Ecco e qui la realtà supera la fantasia perché sia Alessio che Vaccarino sarebbero entrambi uomini dei servizi di sicurezza. Il colonnello Mori, diventato poi capo del SISDE sotto il governo Berlusconi, ha detto sì, Vaccarino, sindaco di Castelvetrano, città che ha dato i Natali a Matteo Messina Denaro, era un mio uomo. Mentre il testimone di Paolo Mondani dice Alessio, l'uomo che ha scritto le lettere per conto di Matteo Messina Denaro era un mio amico, un ex carabiniere che si è infiltrato nei panni di bancario in un potente mandamento di Cosa Nostra. Quello di San Lorenzo è lui che scrive le lettere a Svetonio per conto di Matteo Messina Denaro che in realtà aveva incontrato lui stesso nei momenti più critici. Insomma, il libro che è questo esce nel 2008, due anni dopo l'arresto di Bernardo Provenzano. Insomma, è un libro un po' particolare perché quelle lettere scritte dal sedicente Matteo Messina Denaro non contengono errori da matita blu. Certamente Denaro è molto più trasandato, basta leggere i pizzini che ha mandato, ha scritto lui stesso a Bernardo Provenzano. E poi anche il riferimento che fa nel libro il sedicente Matteo Messina Denaro è altamente improbabile. Si paragona a un novello, Malossen, che è il personaggio di Daniel Pennac, il capro espiatorio di tutti i crimini. Ora, perché viene scritto questo libro? Qual è il messaggio che vogliono mandare i due agenti sotto copertura? Si ha l'impressione che si voglia dare autorevolezza a quello che da due anni è il capo di Cosa Nostra. Ecco, dare l'immagine di un capo che non si piega davanti alle difficoltà, alle condanne e mantiene la schiena dritta. Ora, è ovvio, è più facile pensare invece che goda di coperture perché altrimenti è inspiegabile anche la luce di quegli strumenti di cui sono dotati gli investigatori oggi come faccia a muoversi liberamente tra Toscana, Spagna, Inghilterra, Sud America, Emirati, Arabi. Gode di coperture anche perché sarebbe inspiegabile come fanno a sparire cinque anni di inchieste e indagini sulla sua latitanza chiusi in un pc e un pendrive sono letteralmente scomparsi nel nulla. E forse anche la massoneria deviata lo copre a sentire quello che dice l'ondranghetista Fondacaro che parla di una filiazione a una loggia massonica derivata dalla P2. Insomma, tanto per rimanere legati alle citazioni di Pennac a cui tanto tiene il sedicente Matteo Messina Denaro quel personaggio malossenda, ecco l'uomo non si nutre di verità ma si nutre di risposte. Nel caso della mancata perquisizione del covo dopo l'arresto di Riina non c'è né la verità e non ci sono neppure le risposte. 15 gennaio 1993. Il Ross cattura Totò Riina, il capo di Cosa Nostra. Era appena uscito dalla sua villa di Via Bernini a Palermo che oggi ospita una caserma dei carabinieri. Ma 28 anni fa i carabinieri del colonnello Mori nel covo ufficialmente non misero piede. Lì ci ritrovammo al comando carabinieri in tanti, c'erano gli ufficiali del Ross, c'erano gli ufficiali della territoriale, c'era il procuratore Caselli, era pronto un elicottero, erano pronte le macchine, erano pronti i cani. Se non è che il Ross all'epoca Mori e il capitano De Caprio disse che probabilmente una strategia investigativa che poteva portare risultati migliori era quello di non fare la perquisizione, ma di controllare il covo da distanza attraverso una telecamera inserita in una balena, tecnicamente la balena è un furgone. Il pentito Giuffre dice che furono portate via dal covo di Rina le cose che ci stavano e furono consegnate a Matteo Messina Denaro e da lì verrebbe il grande potere di ricatto che avrebbe nelle sue mani Matteo Messina Denaro. Sono a conoscenza di queste dichiarazioni. Cosa ne pensa? Giuffre è un collaboratore attendibile. Settembre 2012, Anino Di Matteo, il magistrato che sta indagando sulla trattativa tra Stato e mafia, aggiunge un anonimo, fin ad ora inedito, che la procura di Palermo giudica genericamente attendibile. Scritto evidentemente da appartenenti di rango all'arma dei carabinieri. Titolo, protocollo fantasma. Si legge, la perquisizione fu fatta. In quel momento viene altresì sospeso il servizio video sul covo di Salvatore Rina. Furono trovate armi, munizioni, un papello con scritti nomi di politici locali, personaggi di spicco con potrone al Vaticano, al Colle, a Montecitorio, a Palazzo Chigi, al CSM e in qualche procura. Tutti inseriti in un altro libro paga con specificati favori e abbondanti bonifici bancari. A un certo punto, lei e anche il procuratore Teresi in quell'epoca, volete vedere i filmati che sono stati realizzati davanti alla villa di Rina. I filmati mostrarono per un certo periodo breve la telecamera posizionata sull'ingresso del residence, dopodiché non c'era più nulla. In questi casi cosa si fa? Si fanno delle relazioni di servizio, si annota quello che succede giorno per giorno. Lì invece tutto questo non ci fu. Non c'erano le relazioni di servizio? Non c'erano le relazioni di servizio, non fumo messi mai in condizioni di sapere quello che era avvenuto. Ad un certo punto si fa il processo al capitano ultimo De Caprio e a Mori. Il processo va dal 2005 al 2006, accusati di favoreggiamento a Cosa Nostra. L'accusa è quello di aver ritardato per 18 giorni la perquisizione della villa, vengono assolti. La pentita Giussi Vitale, sentita a processo, afferma se si fosse fatta la perquisizione nella villa di Totorina ci sarebbe stato il finimondo. Quelle carte avrebbero potuto rovinare uno Stato intero. Io mi riporto essenzialmente a quello che c'è scritto nella sentenza, cioè dire la sentenza evidenzia delle anomalie operative. Di più non mi sento di dire. Anomalie operative che neppure Totorina ha intercettato in carcere, aveva mai capito. Ieri era venito il film e io prima di spegnere la provincia d'altro canale, erano i due stavolente acquistando il generale Mourinho. Mori ha detto, non la perquisizione, ma non l'avevamo fatta perché ritenevamo che lì, che era ricercato e che sapeva, non potreste venire a casa, dopo Rina non è stato perquisito perché chi ha venduto Rina, ha venduto Rina non Cosa Nostra, non l'associazione. E probabilmente questo stava nel patto. Rina comprende che nel suo arresto è successo qualcosa di strano. È stato Bernardo Provenzano a venderlo ai carabinieri. Nel frattempo Provenzano è venuto a nascondersi qui, nelle campagne di Mezzo Iuso. E il 31 ottobre del 1995, in questo casolare, incontra Luigi Lardo, un mafioso di rango di Caltanissetta. I due si baciano sulle guance come d'obbligo fra uomini d'onore e parlano. Ma quella di Lardo è una trappola. Ha già raccontato al colonnello Michele Riccio del Ros dove sta il casolare. Potrebbero arrestarlo il nuovo capo di Cosa Nostra, ma il Ros non entra in azione e Provenzano rimarrà latitante altri 11 anni. Lei, al Ros e a Mori, comunica le coordinate geografiche del casolare. Sì. Cosa accade? Accade che loro non trovano il casolare. Anzi, mi mandano a rifare dopo una settimana circa e poi dopo ancora un'altra settimana due sopralluoghi. Era semplice trovare quel casolare? È una semplicità estrema. E Luigi Lardo non fa nemmeno in tempo a pentirsi ufficialmente perché il 10 maggio 1996 viene ucciso. Poteva diventare il più importante pentito della storia se solo i carabinieri fossero entrati in quel casolare. Al colonnello Michele Riccio, che per mesi aveva tenuto i contatti con Lardo, chiediamo perché il Ros non volle catturare Provenzano. Perché a loro interessava averlo fuori. Il compito di Provenzano era quello di ricompattare l'organizzazione per portarla compatta di fronte all'interlocutore politico di quel momento che era Forza Italia. Siamo a maggio del 1996 e finalmente Luigi Lardo deve formalizzare la sua collaborazione con la giustizia. A Ponte Salario, a Roma, c'è la sede del Ros e in quel momento, per la prima volta, Ilardo incontra Mario Mori. Che accade? Ilardo, che era con le spalle appoggiate al muro, a una finestra, va di scatto proprio, lo vedo, mi sorprende anche a me, va vementemente incontro Mori e gli dice in maniera categorica e con voce decisa, certi attentati li avete commessi voi e li avete adeguitati a noi. Guardai Mori in attesa di una sua reazione, invece Mori strinse pugni, si guardò la punta delle scarpe, si voltò di scatto e se ne andò. Lei definisce la morte di Lardo, l'uccisione di Lardo, come un omicidio di Stato? Erano quelle istituzioni, quella parte delle istituzioni che temeva i contenuti della collaborazione di Lardo, perché Lardo avrebbe parlato di omicidi commessi direttamente da apparati e da ambienti dello Stato e anche altri omicidi commessi da Cosa Nostra ma che ne aveva subito le conseguenze in quanto i mandanti erano esterni, tipo avrebbe parlato e chiarito l'omicidio Battarella, quello di Piola Torre e Insalaco, mentre addebitava direttamente allo Stato il fallito attentato della Daura, l'omicidio Domino e l'omicidio di Piazza e di Agostino. Il generale Mori e il colonnello Mauro Bino furono processati anni fa per la mancata cattura del boss provenzano, ma anche in questo caso il generale Mori e il colonnello Bino vengono assolti. Anche lì la sentenza di assoluzione evidenzia che vi sono state delle scelte tecniche non felici. Lei le chiama scelte tecniche, ma secondo lei c'era anche un'inerzia? Non ci fu una brillantezza nella conduzione delle operazioni e addirittura per certi versi si connotano dei ritardi e delle omissioni. Nella requisitoria lei afferma che esisterebbero parecchie zone d'ombra nell'atteggiamento degli apparati investigativi del ROS. A un certo punto noi abbiamo avuto un po' il sospetto che non ci fosse quella collaborazione leale tra la polizia giudiziaria e la magistratura inquirente. Mario Mori fu processato per la mancata perquisizione del covo, a chiedere però l'archiviazione è stato lo stesso PM Antonio Ingroia e la motivazione è che mancava la prova della consapevolezza nel non perquisire il covo, di favorire cosa nostra. Ecco su questa vicenda è tornato lo stesso Mori in un'intervista dopo molti anni nella quale ha detto noi sapevamo che Riina sapeva di essere ricercato, non siamo entrati nel covo perché immaginavamo che non conservasse materiale importante. Ecco è una versione alla quale non crede neppure. Riina dice Mori è un furbo, cosa c'era dentro quel covo. Chi è entrato 18 giorni dopo ha trovato tutto pulito, le pareti verniciate, tuttavia ha trovato una foto che era caduta per sbaglio dietro un mobile dove c'era un numero di telefono. È bastato quello per far scattare degli arresti e inguaiare un mafioso di spicco. I collaboratori di giustizia Giuffrè e Brusca hanno parlato spesso di un archivio che era in possesso di Riina e lo stesso Gioacchino Labarbera aveva detto che quel covo era stato ripulito da uomini di Cosa Nostra. La collaboratrice di giustizia Giussi Vitale ha detto che nella cassaforte di Riina in via Bernini c'era un archivio documentazione tale da far saltare lo Stato. Ecco il papello che è arrivato sul tavolo del magistrato Nino Di Matteo parla di rapporti con politici, con uomini del Vaticano, uomini delle istituzioni più alte che erano nella disponibilità di Cosa Nostra. È un anonimo. Noi ovviamente non sappiamo se è vero. Forse la sintesi più giusta l'ha fatta il magistrato Alfonso Sabella che è un esperto cacciatore di latitanti. Ha detto che il covo non è stato perquisito perché chi ha venduto Riina ha venduto solo Riina, non l'associazione Cosa Nostra. Probabilmente questo era nel patto, un'associazione che poteva sgretolarsi anche con i colpi della collaborazione di Luigi Ilardo, il primo boss se avesse fatto in tempo, il primo boss che si è infiltrato nella storia di Cosa Nostra. Ecco Luigi Ilardo è un fiume in piena, porta il Ross al covo dove si nascondeva Bernardo Provenziano ma inutilmente perché non viene catturato. Racconta al colonnello Riccio una fase della trattativa quasi impresa diretta. Parla di Dell'Utre come il referente scelto da Cosa Nostra, il referente politico, l'appoggio al partito Forza Italia. Dice che la Pax mafiosa nasce da un accordo perché c'è in cambio dell'elargizione degli appalti di denaro pubblico. Ma soprattutto Ilardo è il primo a raccontare della presenza nelle stragi e negli omicidi eccellenti della massoneria deviata, dei servizi segreti, della destra e versiva. Ilardo è soprattutto il primo a parlare di faccia da mostro. Il Giovanni Aiello, poliziotto, agente sotto copertura con collegamenti con la CIA dalla faccia deturpata da una fucilata che è presente sui luoghi delle stragi e degli omicidi eccellenti. Ora quando Ilardo decide di ufficializzare la sua collaborazione si reca a Roma presso la sede del ROS e incontra Mori nelle modalità con cui abbiamo sentito dal colonnello Riccio e poi incontra i magistrati Principato, Tinebra e Caselli Tinebra che è titolare delle indagini sui mandanti esterni alle stragi. Annuncia loro la volontà di ufficializzare la sua collaborazione ma non farà mai in tempo perché sarà ucciso il 10 maggio del 1996 a Catania. Due anni dopo il ROS sequesterà delle informative, dei documenti che testimoniano l'impero economico finanziario di Bernardo Provenzano. Tuttavia quella documentazione rimane incredibilmente nei cassetti per lunghi 23 anni fino a poche settimane fa. Al processo d'appello sulla trattativa Stato-mafia sono emersi recentemente migliaia di documenti rimasti nascosti per anni. Il 10 novembre 1998 i carabinieri del ROS arrestano tra gli altri Giovanni Napoli, fedelissimo di Bernardo Provenzano. Gli sequestrano tre telefonini e un rilevatore di microspie che inspiegabilmente vengono restituiti alla moglie il giorno dopo. I carabinieri non sequestrano il computer ma solo sette floppy disk che non sono in grado di aprire. Nove mesi dopo ci pensa Gioachino Genchi. E tiriamo fuori dei documenti importantissimi, dei dossier, si identificavano vari asset finanziari, investimenti patrimoniali anche consistenti nell'ordine di centinaia e centinaia di milioni delle vecchie lire. Con molti mesi di ritardo lei analizza anche il computer e vede che hanno avuto il tempo di cancellarlo. Cancellato in maniera maldestra perché ci hanno tentato ma noi siamo riusciti a recuperare. Praticamente tirammo fuori un volume di circa 15.000 pagine di documenti. Qualcuno ha aperto mai quelle 15.000 pagine? No, per quello che mi è stato detto i faldoni sono stati trovati in tonsi ancora sigillati negli stessi contenitori nei quali io li avevo depositati. Documenti rimasti nascosti per vent'anni che hanno permesso a Provenzano e alla sua famiglia di tenersi strette le proprietà. È il passato che ritorna. Così come nella sentenza sulla trattativa Stato-mafia. Cosa hanno scoperto i giudici sul passato del generale Mario Mori? Il fatto che Mori, allora giovane capitano, fosse stato coinvolto nelle investigazioni della procura di Padova, nell'indagine cosiddetta rossa dei venti, a proposito di un'ipotesi di suoi contatti con esponenti di spicco di ordine nuovo in Veneto. Fatto sta che improvvisamente, nel 1975, Mori venne allontanato repentinamente dal SID. La Rosa dei venti fu un'organizzazione paramilitare parallela a Gladio, della quale facevano parte uomini dei servizi e neofascisti. Mentre fu il vice capo del SID, il generale Gianadelio Maletti, ad allontanare nel 1975 dal servizio segreto il capitano Mori, con l'ordine di tenerlo lontano dalla sede di Roma. Oggi Maletti ha 99 anni, expiduista, condannato per i depistaggi sulla strage di Piazza Fontana, è latitante in Sudafrica dal 1980. Via mail ci ha spiegato il perché di quella decisione. Il capitano Mori era sospettato di contatti con l'estrema destra eversiva e pertanto perso di forza per trasferimento. Quel suo allontanamento da Roma era collegato proprio al fatto che dalle indagini padovane poi confluite nelle indagini sul golpe borghese, Mori era stato in qualche modo coinvolto. Tre anni dopo, l'11 marzo 1978, il comando generale dei carabinieri vuole trasferire Mario Mori a Roma, ma l'allora colonnello parente del Sismi dice ancora no. Eppure... Tornò al reparto operativo di Roma, proprio alla sezione anticrimine, il 17 marzo, quindi il giorno successivo al rapimento dell'onorevole Aldo Moro. Nella sentenza di primo grado sulla trattativa Stato-mafia testimonia il colonnello dei carabinieri Massimo Giraudo, che deposita i verbali del maggiore Mauro Venturi, negli anni 70 collega di Mario Mori al SID. Dalle dichiarazioni di Venturi viene fuori qualcosa di ancora più significativo. Un'attività di proselitismo di Mori per affiliazioni condivise in una sorta di lista riservata della P2 di Licio Gelli. Nel 2018 il primo grado del processo sulla trattativa Stato-mafia si conclude con pene pesantissime per gli ufficiali del ROS Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno. hanno trattato con Cosa Nostra per il tramite di Vito Ciancimino la fine della campagna stragista, ma il risultato fu l'opposto. Ecco quel che disse Mori a Ciancimino. Signor Ciancimino, ma cos'è questa storia qua? Ormai c'è muro contro muro, da una parte c'è Cosa Nostra, dall'altra parte c'è lo Stato, ma non si può parlare con questa gente. La buttai lì convinto che lui diceva cosa vuole da me il colonnello, invece dice ma sì, si può, si potrebbe, io sono in condizione di farlo. Cosa è questo muro contro muro? Non si può parlare con questa gente. Cosa vogliono questi per far cessare le stragi? Questa è, tra virgolette, così la ritenni nel corso della requisitoria, la confessione, tra virgolette, di Mori sul fatto che fu avviata una trattativa. Il generale Mori, che iniziò sostanzialmente la sua carriera come esponente dei servizi, la proseguì lungamente come ufficiale di polizia giudiziaria con ruoli di comando in un reparto di eccellenza come il ROS e la terminò poi quando, andato in pensione dall'arma dei carabinieri, assunse l'incarico di direttore del SISDE, quindi tornò ai servizi, però ha sempre, costantemente tenuto un comportamento che è più assimilabile a quello di uno spregiudicato uomo dei servizi che a quello di un ufficiale di polizia giudiziaria che segue le regole del codice. Insomma dai verbali e dai documenti informative e segrete emerge il passato del giovane Mori, un passato che se fosse vero sarebbe imbarazzante e anche inquietante. Emerge un giovane Mori impegnato, aderente ad un'organizzazione paramilitare come la Rosa dei Venti, della quale facevano parte uomini dei servizi segreti, uomini neofascisti, uomini legati alla destra eversiva e poi un Mori che avrebbe fatto opera di proselitismo per iscrivere nuovi adepti ad una loggia riferibile alla P2 di Licio Ogelli, una lista segreta. Ora Mori che con noi non ha voluto parlare attraverso i suoi legali ci scrive non abbiamo voluto interferire con il giudizio in corso e che si svolgerà tra poche settimane l'appello in corte d'assiste a Palermo su quella che è la presunta trattativa tra lo Stato e la mafia. Noi però per dovere di cronaca e completezza di informazione abbiamo provato a ricostruire la sua difesa. Mori dice che il colonnello Giraudo ha violato il segreto di Stato, nega di essere Mori stato coinvolto in indagini negli anni 70 dalla procura di Padova che l'allontanamento dal SID dal servizio segreto è dipeso esclusivamente da contrasti con i suoi superiori e dice anche che le accuse di aver effettuato opera di proselitismo per la lista riservata vicino alla P2 sono false. Ora i giudici però di Palermo la pensano diversamente, questo lo diciamo anche a completezza dell'informazione, pensano invece che le dichiarazioni di Giraudo più fortemente contestate da Mori trovano invece fondamento inequivocabile nei documenti acquisiti nel corso delle indagini. Insomma è come dire che quel filo nero che lega la P2 ai servizi deviati e anche alla destra eversiva è sulla carta e se ne trova traccia anche in altri verbali che sono stati a lungo dimenticati e che sono all'origine delle stragi. C'è un lato ancora oscuro nella storia delle mafie. Cosa permette loro di resistere nonostante i successi dello Stato? Se lo chiede la procura di Reggio Calabria che ha aperto una nuova indagine denominandola Stato parallelo, anche a partire dalle rivelazioni di un pentito storico come Filippo Barreca ai vertici dei clan dei De Stefano che ha fatto arrestare circa mille andranghettisti. Ha descritto i rapporti tra mafie, servizi segreti e massoneria deviata e racconta come l'andrangheta ha cambiato pelle a partire dal 1978 quando il leader del versione nera Franco Freda trovò riparo in Calabria tramite l'avvocato Paolo Romeo, militante missino e poi deputato per il PSD già condannato per concorso esterno all'andrangheta. Mi si chiese di nascondere Freda nella mia abitazione a Bocale dove successivamente si frequentavano l'avvocato Romeo e Giorgio De Stefano per parlare con Franco Freda. Fu in quei frangenti che i tre cominciarono a discutere di istituire una loggia super segreta a Reggio Calabria che doveva servire per destabilizzare l'ordine democratico, per concepire attentati e quant'altro. Ma questa struttura nella quale c'è l'andrangheta, la massoneria deviata, come la definirebbe oggi? Uno stato parallelo del quale fanno parte magistrati, massoneria deviata, politici di tutti i partiti, imprenditori, servizi e l'andrangheta è cosa nostra. In questi decenni l'andrangheta ha battuto cosa nostra 5 a 0, come è potuto accadere? Nel mentre i siciliani pensavano fare le stragi, noi l'andrangheta ha pensato ad andare ad appropriarsi di quei poteri che erano importantissimi, cioè i servizi segreti. Perché Liciogelli in tutte queste vicende calabresi a partire dagli anni 90? E' il prezzemolo di ogni minestra. Stefano Scorza era un dirigente del SISDE quando nel 1984 segnala all'allora capo del servizio Vincenzo Parisi di poter sapere dove si nascondeva Liciogelli, allora latitante, e ci fa il nome della sua fonte. Gabriele Ceci che asseriva di sapere dove si trovava Liciogelli e di potermi portare da lui. Comunque Liciogelli era latitante in quel periodo. Teoricamente il primo ricercato d'Italia. Cosa risponde Parisi quando lei gli va a dire? Si è molto arrabbiato, molto arrabbiato e mi ha detto di farmi i fatti miei praticamente. Che vuol dire molto arrabbiato? Molto arrabbiato, se ne vada dal mio ufficio e si occupi delle cose sue. E si comprende perché Parisi era arrabbiato da questa lettera del 1980, inviata dal Grande Oriente d'Italia alla principale obbedienza massonica proprio a lui, al carissimo fratello Vincenzo Parisi. Firenze, via De Giorgofili, 27 maggio 1993, 5 morti e 48 feriti. Il magistrato di turno quella notte è Gabriele Chelazzi. Si chiede, chi spinge Cosa Nostra a portare il terrore ad un passo dagli uffizi. Sul suo tavolo arrivano subito due documenti. Uno è della direzione investigativa antimafia. Dice che dietro le stragi ci sono ambienti massonici a rischio. Il secondo documento è dello SCO della Polizia. Noi leggiamo questo. Obiettivo della strategia delle bombe sarebbe quello di giungere ad una sorta di trattativa con lo Stato per la soluzione dei principali problemi che attualmente affliggono l'organizzazione, il carcerario e il pentitismo. L'11 aprile 2003, pochi giorni prima di morire, l'ultimo interrogatorio di Gabriele Chelazzi è nei confronti di Mario Mori. Gabriele aveva intenzione di scriverlo, questo l'ho detto anche in qualche sede ufficiale, nel registro degli indagati, ma soprattutto diceva benissimo, in ogni caso se lui non mi vuole dire che quelle cose le ha fatte e le ha fatte nell'interesse dello Stato mi oppongo al segreto di Stato e poi ce la vediamo con la presidenza del Consiglio dei Ministri. In che cosa dava fastidio il suo lavoro secondo lei rispetto a quella sentenza sulle stragi? Nella misura in cui per la prima volta in un provvedimento giudiziario che poi sarebbe pure passato in giudicato si parlava dell'esistenza della trattativa tra lo Stato e la mafia, che era una cosa che non bisognava dire. Abbiamo recuperato tutto il lavoro che aveva fatto Gabriele Chelazzi, Mori rispondeva genericamente a monosillabi o dicendo non so o non ricordo. Il culmine dell'interrogatorio di Chelazzi al colonnello Mario Mori è proprio quando Chelazzi ricorda l'incontro tra Mori e Di Maggio, il vice capo del DAP. Il colonnello Mori si attivò anche nel 1993 attraverso Francesco Di Maggio, vice capo del DAP, per capire che cosa si potesse in qualche modo fare per venire incontro a quelle che erano state le richieste iniziali che attraverso Vito Ciancimino Riina aveva fatto per venire allo Stato. E poi a partire dal novembre del 1993, 334 decreti di 41 bis non furono prorogati. Oggi si riparla di depotenziare e persino di abolire il 41 bis e dopo la decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo di dichiarare illegittimo l'ergastolo stativo, la Corte Costituzionale ha dato al Parlamento un anno per decidere come modificarlo. L'ergastolo stativo è il divieto di concedere benefici penitenziari ai mafiosi che non intendono collaborare con la giustizia. Lei cosa pensa? Io l'ho detto, ho fatto una battuta più volte, a Bruxelles non arriva l'odore del tritolo. Probabilmente migliorare il 41 bis è necessario, però dobbiamo tenere conto delle peculiarità delle mafie, di Cosa Nostra e delle mafie italiane. Oggettivamente si stanno realizzando alcuni degli obiettivi della Cosa Nostra stragista del 92, 93, 94 e oggettivamente stiamo procedendo verso uno smantellamento totale di quell'impianto complessivo di norme, il 4 bis dell'ordinamento penitenziario, il 41 bis, le norme sui collaboratori di giustizia che era stato concepito sotto la spinta ideativa e organizzativa di Giovanni Falcone. Perché lo si faccia proprio oggi? Perché in questo momento, soprattutto dopo il Covid, il nostro paese, la nostra economia legale soffre una grande carenza di liquidità, liquidità che possono mettere in campo i mafiosi. Io distingo le mafie in grandi stagioni, la prima stagione la mafia 1.0 che era la mafia che conviveva con lo Stato, fino all'avvento dei Corleonesi, la mafia dei Corleonesi è la mafia che ha sfidato lo Stato, la mafia del dopo stragi e dopo patto e la mafia che ha trattato appunto con lo Stato e ora c'è una mafia che ha capito che è molto più comodo lo Stato comprarselo e oggi hanno i soldi per farlo. Senza il contributo dei collaboratori di giustizia non sapremmo nulla su cosa nostra, sull'andrangheta, sulla camorra, nulla sulle stragi, nulla sui rapporti tra mafia, politica, imprenditoria, massoneria deviata, servizi segreti. Ecco, forse viveremmo sotto una beata incoscienza, ma sicuramente soffocati dal male. Da tempo l'Istituto della collaborazione è in pericolo. nel 2004 il governo Berlusconi aveva varato un decreto, poi attuato nel 2009, che sta erodendo piano piano la possibilità dell'anonimato per chi collabora. Ecco, la possibilità per collaboratori e loro familiari di ricostruirsi una nuova identità per reinserirsi nella società. Questo ora è caduto. È successo anche a un pentito storico come Barreca, pentito di indrangheta. In passato bisogna ricordare che pentiti come Buscetta, La Barbera, Di Matteo, sono stati uccisi familiari e addirittura bambini sciolti nell'acido. Ora, in queste ore si sta discutendo sulla riforma della giustizia. Il governo dovrebbe mandare un segnale chiaro. Crede ancora nell'Istituto della collaborazione. Bisogna capirlo perché ci sono dei collaboratori di giustizia che si stanno fermando altri potenziali che ci ripensano. Con la possibilità di abolire l'ergastolo ostativo c'è la possibilità di far uscire dal carcere un mafioso senza che abbia detto una parola di verità. Ecco, potrebbe ripensarci anche chi come Graviano accusato oggi di essere l'esecutore della strage di Via D'Amelio che ha tenuto la bocca uscita per 27 anni e che ha cominciato a parlare in questi mesi. Ecco, potrebbe ripensarci perché potrebbe uscire dal carcere senza dire una parola sulle stragi. Bisogna ricordare che se la mafia uccide, come disse Peppino in passato, uccide anche il suo. This is Great Big Story